ricomincia la scuola è arrivato il mese di settembre ricomincia la scuola lo scorso anno insieme a tanti amici mia ha imparato a scrivere a contare ed è entrata nel magico mondo della lettura durante l'estate si è divertita tanto a leggere tutto ciò che trovava sul suo cammino insegne carte geografiche menù del ristorante pubblicità la cosa più bella però è stata arrecarsi in biblioteca per prendere in prestito tanti libri che mia ha letto durante le vacanze mia lo sa anche quest'anno sarà un'incredibile avventura per tutti i bambini